Abbiamo ricevuto il comunicato riguardo l'impiantistica sportiva della società dell'Isernia che andiamo a leggere testualmente. Con il presente comunicato, la società città di Isernia San Leucio intende fare chiarezza circa l'utilizzo dello stadio Langellotta per le gare casalinghe. Partendo dal fatto che noi siamo la squadra di Isernia e vogliamo giocare a Isernia, devono però esserci delle condizioni decorose affinché la parte tecnica non venga sfilita dal campo impraticabile e ingiocabile. Da parecchi mesi siamo in contatto quotidiano con l'amministrazione comunale e stiamo seguendo l'evolversi delle vicende. Allo stadio Langellotta è stata ripristinata l'irrigazione da qualche giorno. La stessa è mancata quest'estate per circa due mesi causando gravi danni al manto erboso. Il Comune ha contattato una ditta specialista in campi di erba che dovrà provvedere alla sabbiatura e areaggiatura del campo per sostituire parte della terra con della sabbia idonea a rendere lo stesso più drenante e quindi più praticabile anche durante il periodo invernale. Siamo in attesa che il Comune avvii i lavori di sistemazione sperando che i tempi siano brevi così come promesso e che al termine degli stessi sia possibile giocare a calcio sul manto dell'Ancellotta. Speriamo quindi di poter tornare a giocare nel nostro stadio dalla seconda partita di campionato in casa contro i Ripa Limosani in programma il primo ottobre. Chiaramente qualche giorno prima verrà fatto un sopralluogo per capire la praticabilità. Vogliamo giocare nel nostro stadio e lo ribadiamo ma vogliamo altresì ribadire che il nostro obiettivo è quello di vincere il campionato e quindi un campo di gioco casalingo decoroso e condizione assoluta per la realizzazione del nostro obiettivo. Non vogliamo fare polemiche con nessuno, speriamo solamente di riuscire a tornare nella nostra casa prima possibile. La nostra redazione sportiva da sempre vicina alle tematiche che riguardano l'impiantistica sportiva. Sottoscrive e condivide quanto espresso nel comunicato della società biancoceleste che sta fronteggiando non pochi problemi inerenti il campo ridotto in cattive condizioni. L'auspicio comune è che la situazione possa migliorare nel più breve tempo possibile in vista del campionato di vertice che la squadra intende disputare.